In studio Giada Giacquinta. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione di MTG in apertura le elezioni dell'ex provincia di Sicilia perché si scaldano i motori in vista delle elezioni dei presidenti e consigli dei liberi consorsi. Si tratta di elezioni di secondo livello quindi il prossimo 30 giugno non saranno i cittadini chiamati al voto ma consiglieri comunali e sindaci dei comuni delle province siciliane. L'ufficio elettorale a Ragusa si è insediato stamattina tra i candidati, i sindaci Abbate e Cassì. Per il PD invece si fanno i nomi del sindaco Giannone e Giacquinta. Il prossimo 30 giugno si torna al voto per l'ex provincia siciliana e commissariate da oltre sei anni. Si voterà per i presidenti e i consigli di sei liberi consorsi e dei consigli metropolitani di Palermo, Catania e Messina nonché del consiglio consortile. Non saranno i cittadini a votare, si tratta infatti di elezioni di secondo livello e gli aventi diritto al voto sono consiglieri comunali e sindaci dei comuni delle province siciliane a eccezione di quelli sciolti per mafia, come nel caso di Vittoria, sciolto nel scorso 31 luglio. L'ufficio elettorale si è insediato stamattina per dare corso ai primi edempimenti preelettorali a cominciare dalla formazione dell'elenco degli elettori, composto dal presidente Valentino Pepe, segretario generale del Comune di Vittoria, da Nadia Grutta D'Auria, segretario generale del Comune di Santa Croce e Camerina, da Giampiero Bella, segretario generale del Comune di Modica e da Alessandro Basile, dirigente del Comune di Vittoria. La presentazione delle candidature per l'elezione di presidente e consiglieri dovrà avvenire dal 9 al 10 giugno. Per la presentazione della candidatura a presidente del Libero Consorzio Comunale occorre una percentuale del 15% degli aventi diritto e gli aventi diritto sono 187, ovvero 11 sindaci e 176 consiglieri comunali. Tra i candidati aveva già da tempo manifestato il suo interesse alla guida dell'ex provincia di Ragusa il sindaco di Modica, Ignazio Abate, il quale ha sottolineato più volte come il proprio punto di forza sia l'interlocuzione con il mondo civico. Altro candidato, Peppe Cassì, sindaco di Ragusa, i cui temi sono trasversalità e candidatura di unione. Ho già proposto ai sindaci di trovare un punto di incontro, dice Cassì. Questa è una provincia di confine, quindi la frammentazione sarebbe controproducente. Altro punto per Cassì, contribuire ancora di più allo sviluppo del nostro territorio. Al proposito, dice di non essere interessato ad ulteriori step di carriera politica. Il Partito Democratico non sarà a margine della competizione. Nello Di Pasquale ha dichiarato, stiamo da tempo avviando confronti con tutti coloro che possono condividere il percorso del centro-sinistra, non escludendo neanche le forze civiche. Il nome in balle è quello di Lino Giacquinta, segretario provinciale e sindaco di Giarratana. Ma resta anche il nome del sindaco di Scicli, Enzo Giannone, che ha dichiarato nel corso di un'ultima intervista come sia fondamentale costruire un percorso costruttivo che rappresenterebbe un momento importante per un rilancio forte di quest'area politica, scendo fuori dalla frammentazione politica. Il 30 giugno si voterà dalle 7 alle 22, mentre lo spoglio delle schede inizierà il giorno dopo alle 8. Considerato che il voto espresso dagli aventi diritto sarà col criterio della ponderazione, gli 11 comuni della provincia di Ragusa sono stati suddivisi in quattro fasce sulla base della popolazione. Il voto col criterio della ponderazione comporta che il voto di un consigliere di una determinata fascia abbia un peso diverso rispetto a quello delle altre fasce. Nella fascia A vi sono i comuni di Giarratana e Monterosso, perché con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Nella fascia B i comuni di Acate, Chiaramonte e Gulfi e Santa Croce e Camerina, con popolazione fino a 10.000 abitanti. Nella fascia C i comuni di Comiso, Ispica, Pozzallo e Scicli, con popolazione fino a 30.000 abitanti. Fascia B Ragusa e Modica, perché hanno una popolazione fino a 100.000 abitanti. Il peso elettorale di Vittoria, che non vota, è stato suddiviso proporzionalmente tra i comuni di fascia C. C'è uno spettro dietro l'angolo che crea angoscia a migliaia di famiglie catanesi, ossia il blocco totale dei servizi e degli stipendi. Una prospettiva che allarme il primo cittadino è Teneo Salvo Pogliese, che ha deciso di scrivere una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in cui mette nero su bianco le difficoltà che vive la città di Catania. Ogni giorno, scrive il Sindaco, riscontriamo l'impossibilità di dare risposte concrete alle legittime richieste e le fasce più deboli della popolazione. Un'oggettiva condizione di stallo che va immediatamente rimossa con ineffettibili interventi di sostegno alla settima città capoluogo di area metropolitana d'Italia, che sta pagando un non pesantissimo tributo al passato. Anche per evitare il concreto rischio, purtroppo ormai vicino, che questo disagio si trasformi in una drammatica questione di sicurezza sociale. Purtroppo, continua il Sindaco, nonostante le decine di incontri con ministri, viceministri, sottosegretari e parlamentari, e le sincere manifestazioni di disponibilità e attenzione, nessuna concreta misura è stata ancora adottata, aggravando una situazione divenuta ormai insostenibile, che solo grazie all'encomiabile senso di responsabilità delle parti sociali e istituzionali non è sfociata in questione di ordine pubblico. Ci rivolgiamo a lei all'equilibrio istituzionale di direzione politica del Governo, che le viene riconosciuto, prosegue Pogliese, per sollecitarla vibratamente a provvedere con atti urgentissimi che diano la possibilità al Comune e alla città di potersi affrancare da questa condizione di drammatica difficoltà, che ha portato al collasso una grande comunità ormai prossima al Baratro. Siamo speranzosi che con il suo autorevole intervento, entro pochissimi giorni, prima che i danni inventino irreparabili, vengano adottate le misure legislative di Governo che da mesi abbiamo venamente invocato. E chiediamo, conclude la lettera di Pogliese, che lo Stato si faccia parte nel garante del cammino di risanamento che in questi mesi abbiamo inente appreso, attuando drastici correttivi finanziari, consentendoci di varare un omilaggio stampilmente riequilibrato, senza che ciò comporti i costi diretti per le finanze statali. E proprio Catania, insieme ad Acireale, ha una strategia integrata che porterà allo sviluppo e alla modernizzazione in diversi settori, in virtù del regolamento europeo per i fondi di sviluppo regionale. I dettagli. Modernizzazione dei servizi a favore dei cittadini al fine di rendere Catania-Acireale maggiormente attrattivi, innovativi, ma anche accoglienti e attenti al disagio sociale. Questo è l'obiettivo globale della strategia di coalizione Catania-Acireale, grazie agli investimenti territoriali integrati della coalizione formata dalle due città. Una strategia di interesse comune che prevede per la città di Catania una dotazione di oltre 42 milioni di euro e per la città di Acireale di oltre 11 milioni di euro. Le due amministrazioni comunali hanno dunque scelto di investire i circa 53,5 milioni di euro in risorse assegnate nei seguenti ambiti, servizi digitali, efficientamento energetico e mobilità sostenibile, tutele e valorizzazione del patrimonio culturale, inclusione sociale. La strategia unitaria sostenibile da cui scaturisce il piano dei finanziamenti è stata varata dalla giunta poiese il 13 dicembre 2018, mentre il sistema di gestione centrale, propedeutico alla fase operativa, è stato deliberato lo scorso 19 marzo. Per alcuni progetti su svariati settori, basti pensare alla mobilità sostenibile con l'acquisto di nuovi autobus, basti pensare a un progetto della pista ciclabile Catania-Acireale passando per Acicastello, basti pensare ad alcuni progetti sulle smart cities migliorando il rapporto con i cittadini, basti pensare anche ad alcuni progetti per la ristrutturazione di alloggi popolari, per cercare di contenere l'emergenza abitativa che costituisce un'assoluta priorità dell'attuale contesto storico-politico. L'idea di agenda urbana è proprio un'idea di prevedere degli investimenti legati ai territori, quindi questo accordo fra Acireale e Catania che procederanno assieme è sicuramente vincente, tant'è vero che una delle opere che è prevista è una pista ciclabile che collegherà Acireale e Catania passando da Acicastello e quindi spendere i soldi nei territori, facendo partecipare anche i territori alla selezione, all'individuazione delle opere è secondo me un effetto molto positivo. Amara scoperta per l'associazione Nessuno Escluso che opera nel centro di urno a Scicli. Nella notte tra domenica e lunedì i gnoti hanno danneggiato il parabrezza e distrutto uno specchietto retrovisore del pulmino utilizzato per il trasporto dei bambini. Quest'atto vandalico ha provocato sdegno e sgomento, come ha testimoniato l'educatrice Gabriella Portelli che ha incontrato la nostra Veronica Puglisi. Un atto vile, un gesto che indigna tutti e che fa riflettere su come l'inciviltà e la cattiveria camminano di pari passo. Perché non ci sono altre parole, o meglio è impossibile trovarne altre per definire quanto accaduto a Scicli la notte tra domenica e lunedì, intorno alle 4. Una amara scoperta, quella fatta dall'associazione Nessuno Escluso alla quale è stato danneggiato il pulmino utilizzato per il trasporto dei ragazzi nelle varie attività quotidiane. L'associazione che si occupa di minori in difficoltà, favorendo il loro inserimento nel tessuto sociale cittadino opera all'interno del centro di urno, affiancando le suore nel loro percorso educativo. I gnoti hanno infranto il vetro del parabrezza, rotto lo specchietto retrovisore del mezzo parcheggiato proprio qui in Viale Primo Maggio nel quartiere Iungi. Un gesto che ha provocato sgomento e rabbia tra gli operatori dell'associazione ma che non ha affermato la loro attività. Alle 4 di notte ho sentito un rumore, affacciandomi ho visto che qualcuno si stava divertendo a rompere, a danneggiare il pulmino. Non so capire chi sia, quali siano le motivazioni, anzi mi piacerebbe svelare questo mistero. La cosa mi ha lasciato infatti molto stupita. L'associazione Nazione Escusi nasce proprio per affiancare il lavoro delle suore del Rosario per far sì che i ragazzi si integrino nella società, essendo molti anche stranieri e comunque figli di situazioni difficili e possano capire qual è il valore della legalità, dello studio, del trovare un senso serio nella vita. C'è un appello che volete fare ai cittadini? Quello che posso dire è che è stato a fare questo danno, se vuole venire ci facciamo una ghiacchierata, ci prendiamo un caffè, io mi sento molto in pace e così vorrei anche vincere questo atto un po' che isolino strano con il bene. Sul caso stanno indagando i carabinieri che stanno visionando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. Oltre 100 kg di marijuana sono stati sequestrati dalle fiamme gialle a Mister Bianco. Un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato. Ammonta oltre un milione di euro il valore della marijuana sequestrata a 136 kg dalla Guardia di Finanza di Catania, tanto se messa nel mercato avrebbe fruttato ai venditori. La droga è stata trovata a Mister Bianco nel Catanese dopo una serie di attenti controlli condotti agli uomini nelle fiamme gialle. In particolare l'attenzione si è focalizzata su un furgone telonato bloccato mentre usciva da un garage condominiale. Grazie a un'accurata ispezione del veicolo si è notata la presenza di un non doppio fondo ricavato sotto il pavimento calpestabile del vano posteriore, nel quale erano presenti dei pezzi di nastro isolante colorato e delle tracce di sabbia, nonché all'interno dell'abitacolo dell'automezzo di una valigia contenente circa 10.000 euro di denaro contante, della quale il conducente non forniva alcuna giustificazione. I militari hanno così proceduto a controllare il garage dove hanno trovato imballati assicurati con nastro adesivo di colore verde-rosso, similare a quello che c'era nel doppio fondo del veicolo, 11 involucri con all'interno 136 kg di marihuana. L'uomo che guidava il veicolo, già nota le forze dell'ordine, è stato tratto in arresto. Raddoppio Ragusa-Catania. L'attesa di aggiornamenti sulla procedura sta diventando estenuante. Non c'è una data per il prossimo CIP e cresce intanto il numero delle associazioni e organizzazioni che esprimono il proprio consenso alla mobilitazione, chiedono un atto di responsabilità da parte dei rappresentanti istituzionali regionali ma anche nazionali. Al momento siamo nella fase ancora delle chiacchiere, esigiamo i fatti. A dirlo Roberto Sica del Comitato Ristretto per il Raddoppio della Ragusa-Catania, un'importante infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del territorio della Sicilia del Sud-Est. È stato già detto abbastanza, ma sembra che non ci siano stati ancora sviluppi sul piano concreto. Pertanto le associazioni di categoria e il Comitato stanno valutando altre azioni facenti parte della mobilitazione che ha visto anche lo scorso 11 maggio la tanto partecipata Marcia Lenta. L'attesa di aggiornamenti sulla procedura sta diventando estenuante, non c'è una data per il prossimo CIP ed è in corso la trattativa con il concessionario. Tra le tre lettere inviate dal concessionario all'ANAS si faceva riferimento alla possibilità dell'accessione per la realizzazione con fondi pubblici della infrastruttura, ma dal Comitato si chiedono a cosa si fa riferimento nel concreto, in quanto dei 670 milioni di euro previsti dal vecchio progetto, l'unica certezza sono al momento e 367 milioni della regione siciliana. La rabbia del Comitato, delle associazioni e di chi si sta battendo da sempre per questo traguardo ha trovato il sostegno dei sindaci che hanno chiesto istanza agli atti per avere spiegazioni riguardo i notevoli ritardi. Intanto cresce il numero delle associazioni e organizzazioni che esprimono il proprio consenso alla mobilitazione, l'ultima in ordine cronologico l'Associazione dei Concessionari del Mercato di Vittoria, che sottolineano in una nota stampa diffusa questa mattina come la realizzazione di questa infrastruttura contribuirebbe ad agevolare la logistica e il trasporto dei prodotti della fascia trasformata, favorendo lo sviluppo di un comparto che sta vivendo un momento di crisi epocale. Intanto dalla CNA rendono noto che a giorni verranno forniti ulteriori dettagli per quanto riguarda possibili azioni di mobilitazione. Quindi basta chiacchiere, occorre un atto di responsabilità da parte dei rappresentanti istituzionali del Governo regionale e nazionale. E chiedono risposte concrete anche i lavoratori del Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa che oggi pomeriggio si sono riuniti per discutere il da farsi al centro della riunione la questione degli arretrati, c'è chi ha accumulato 20 mensilità, la mancata approvazione del bilancio preventivo 2019, i recenti licenziamenti e il paventato sciopero che si è organizzato manderebbe in tilt comuni come Modica e Frigentini e gli impianti serricoli della fascia costiera a causa dello stop all'erogazione dei servizi. Ad esse dipendenti restano in attesa della prossima riunione sindacale di cui non si conosce ancora la data. Più volte sindacati e politica hanno fatto sentire la propria voce ma fino a questo momento le risposte sono state insufficienti secondo i lavoratori e si sono limitati a coprire periodi limitati contribuendo a creare grandi incertezze per il futuro dei dipendenti e delle loro famiglie. Non capisce le ragioni di una prossima protesta dei netturbini l'amministrazione comunale di Scicli dopo aver appreso la notizia dalla CGL che ha sottolineato come gli operatori avrebbero dovuto percepire lo stipendio di aprile entro ieri. L'amministrazione dice che non c'è da allarmarsi in quanto al momento si tratterebbe di un solo giorno di ritardo nell'erogazione da parte della ditta delle spettanze. Scicli è da tempo nella white list degli enti che pagano regolarmente il fornitore dice il sindaco Enzo Giannone se problemi esistono tra dipendenti e la ditta questi non possono essere fatti ricadere sulla nostra amministrazione che non è l'interlocutrice. Di questi fatti informerò il prefetto di Ragusa e le autorità competenti conclude Giannone. E restiamo a Scicli. I riopere pubbliche separano in consiglio ad attaccare l'amministrazione Concetta Morana di Movimento 5 Stelle e l'indipendente Marianna Buscema. La questione politica a Scicli si acuisce con il piano triennale delle opere pubbliche a sollevare il caso e l'indipendente Marianna Buscema e il Movimento 5 Stelle entrambi sottolineano come il piano delle opere pubbliche non sia stato votato per mancanza di rispetto da parte dell'amministrazione Giannone che non ha coinvolto l'opposizione e soprattutto non ha accolto i loro emendamenti. Abbiamo presentato ben 16 emendamenti è stato accolto solo uno degli emendamenti che abbiamo presentato e gli altri sono stati tutti bocciati dicendo che erano già alcune cose inserite nel piano delle opere triennali altri erano molto simili altri non avevano copertura. Il piano triennale opere pubbliche anche quello che l'amministrazione ci ha presentato non erano tutte opere che avevano copertura noi abbiamo chiesto di cambiare determinate cose ci è stato detto di no e allora vuol dire che noi eravamo chiamati a votare in toto un piano fatto dall'attuale amministrazione del quale non condividevamo alcuni passaggi ecco perché la nostra astensione a questo piano a questo punto si apre una questione politica perché il Consiglio Comunale che continuerà vedrà molti punti ancora molto importanti che vedranno un voto tra maggioranza e opposizione. Quello che noi chiediamo come opposizione al di là del dialogo con questa amministrazione visto che ormai l'amministrazione non ha più i numeri che sia ben chiaro per agire in Consiglio Comunale perché in Consiglio siamo 16 consiglieri 8 di quella che era la ex maggioranza e 8 di opposizione quindi nel momento in cui l'opposizione non viene tenuta minimamente in considerazione per quella che è l'azione amministrativa sulla città io non vedo assolutamente nessuna motivazione per votare degli atti che vengono calati dall'alto. Strisce blu a Ragusa ha modificato il piano sosta a pagamento stamattina i dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa il servizio del direttore Catiuscia Carpentieri Novità a Ragusa per il piano sosta a pagamento novità che sono state apportate rispetto all'appalto che era stato predisposto dalla passata amministrazione questa mattina infatti dopo trattative con la ditta che si è giudicata all'appalto si è trovata una sintesi la giunta municipale di Ragusa guidata dal sindaco Peppe Cassì infatti venerdì scorso ha modificato il piano sosta a pagamento e questa mattina ha incontrato la stampa per illustrare i dettagli della nuova regolamentazione verranno anche spostati alcuni stalli nel centro storico in particolare ne verranno eliminati 12 in via via Marina Scrinà gli stalli che vanno da Corsa Italia dal numero civico 348 al 389 per un totale di 20 stalli via Sant'Anna compresa il tratto via Garibaldi via di Pasquale ben 10 stalli e sarà sistemato soprattutto un annoso problema che era quello che nel nuovo appalto si erano dimenticati di alcuni passi di residenti che erano nelle vecchie bandi erano tutte le strade limite perché si andavano a intersecare questi residenti che fino ad adesso hanno avuto difficoltà con pass sempre prorogati finalmente avranno un pass definitivo un pass definitivo che però verrà rilasciato solamente su due strade prospicenti al loro prospetto di dove abitano parte di questi stalli che vengono modificati come diciamo li porteremo in altre parti della città verranno installati 30 in via Monsignor Rizzo in via Monsignor Rizzo non ci sono né abitazioni né attività commerciali e 5 verranno installati in piazza Vannantò tutto questo insomma serve un po' a liberare il centro dare risposta a quei residenti che erano rimasti fuori senza parcheggi e senza computare difficoltà sull'appalto una cosa che ci tendiamo a dire e lo ripeto per l'anissima volta perché ci dispiace che qualcuno tenda a strumentalizzare cose da noi non fatte e poi chi le ha fatte praticamente ci attacca che quando la gara toccherà finalmente farla a questa amministrazione è nostra intenzione liberare il centro storico del meno del 50% delle strisce azzurre all'incontro con la stampa erano presenti anche il comandante della polizia locale di Ragusa Giuseppe Puglisi e il capitano Umberto Lavallese è responsabile del servizio viabilità della polizia municipale in pratica sono state eliminate alcune strade dove vigeva l'obbligo del pagamento della sosta mentre altre nuove sostituiranno queste che sono state revocate per quanto riguarda i residenti nelle strade intersecanti le zone blu si è trovata una mediazione e a loro verrà rilasciato un pass limitatamente a due delle strade che fanno parte del loro quadrilatero Buone notizie per gli abitanti di Biancavilla che attendevano da tempo un ambulatorio e un focal point per tutti i soggetti che nel tempo erano stati esposti a fibre di fluoro e denite inseriti nel protocollo SIN ieri infatti grazie all'Aspet questo progetto è diventato una realtà Il focal point è l'ambulatorio di pneumologia nell'ambito del piano di intervento straordinario nel SIN sito di interesse nazionale di Biancavilla inaugurati ieri rappresentano il punto di inizio di un grande intervento di prevenzione sanitaria i cittadini residenti del comune di Biancavilla di età compresa fra i 40 e i 70 anni con amnambesi positiva per esposizione a fibre di fluoro e denite inserite nel protocollo SIN su segnalazione del medico di medicina generale usufruiranno di prestazioni sanitarie gratuite secondo le procedure diagnostiche definite spirometria come prima fase e radiologia nella seconda fase Il focal point istituito per informare i cittadini sui rischi dovuti all'esposizione a fluoro e denite e sugli interventi di prevenzione primaria e di promozione alla salute è organizzato con due punti di accesso uno presso i locali del Palazzo Comunale gestito dal personale policlinico Vittorio Emanuele e un altro presso il presidio ospedaliero di Biancavilla il punto di accesso comunale ha funzione informativa mentre il focal point presso l'ospedale ha una funzione sia informativa che assistenziale Innanzitutto si tratta di una risposta concreta alla popolazione di Biancavilla che da tempo aspettava degli atti concreti in ordine alla prevenzione della salute ci sono stati atti concreti che hanno riguardato sicuramente la messa in sicurezza della cava ma in ordine agli stili di vita cosa fare se si avevano dei disturbi che riguardavano l'apparato respiratorio poco finora era stato fatto invece con questi due focal point si riescono a dare delle concrete risposte non solo in termini informativi ma anche in termini diagnostici assistenziali lo scopo ovviamente è quello di fare prevenzione e fare sensibilizzazione è necessario mantenere alta l'attenzione sulla questione e soprattutto trasmettere ai cittadini la nuova generazione una percezione del rischio che è ancora alta per quanto riguarda comunque i dati nel centenario della nascita Catania e Masca Lucia rendono omaggio all'artista Giuseppe Consoli che fu un pittore sensibile ai temi sociali e scultore capace di estreme sintesi formali Giuseppe Consoli un non siciliano fra i colori dell'isola questo è il nome della mostra inaugurata e dedicata allo storico dell'arte e artista in occasione del centenario della nascita due le sedie espositive a Catania Palazzo della Cultura dal 18 maggio al 23 giugno e nell'auditorium di Masca Lucia suo paese Natale dal 19 maggio al 2 giugno la mostra è curata da Antonio De Mico storico dell'arte e conservatore delle raccolte d'arte ai musei civici Domodossola e del Museo Diocesano di Nicosia tale mostra indaga l'opera e la personalità inquieta di questo eclettico artista e intellettuale che nel corso della sua lunga vita ha attraversato buona parte del Novecento La situazione di Giuseppe Consoli per noi siciliani del 2019 è quella di avere il coraggio e la voglia di ritenerci siciliani perché Consoli da artista esule quale è stato negli anni 40 e 50 ha lasciato la sua terra per vivere da storico dell'arte e da artista fuori della sua terra però sempre con la Sicilia i colori della Sicilia e la cultura di quest'isola nel cuore come un radicante Ed è tutto per questa edizione grazie per averci seguito per averci scelto vi auguro un buon proseguimento di serata grazie per averci seguito